Un cordiale saluto da Andrea Viagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPI lì dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e un chilometro in direzione Firenze. In A1 si segnalano possibili disagi a causa di lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Impruneta Greve-Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Sulla regionale Due Cassi ha invece chiuso il tratto tra Poggio Estriano e Castiglione d'Orcia. Cantieri di Firenze a partire dalle 21 di domani fino alle 19 marzo in Piazza Gaddi rimarrà chiusa la rotatoria tra Via dei Vanni e Via Bronzino. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!